Siamo giunti alla quarta decena, due anni sul doppio chilometro, otto in prima, tre in seconda, in undice, vi è un cavallo no botti, no betting del Cosmos del Ronco, Gaetano Di Nardo, vincitore al debutto in grande stile. È un figlio di Julius del Ronco, signora Maddalena Pezzone di proprietà, ma sabato bevi l'acqua e squiglia, dietro le quinte. In salchi il solito, Morgan Di Nardo. Allineamento completato, doppio chilometro, puledri, via la macchina in velocità. Corinne d'Oro, dal centro, si staglia nettamente e va al comando con allargo Castrum Par. Cavalli che affrontano la piegata, di dentro Conchiglia e anche Castagnola. Intanto Conchiglia anticipa la leva di Minopoli e si presenta a chiedere strada a Corindoro con Maione. La Conchiglia, dopo duecento in quattordici e otto, sta passando, incumbe il par di Mario Minopoli Junior. Cavalli di fronte al completamento di quattrocento, quattrocento piuttosto solleciti, sono puledri, doppio chilometro, vintinove e sei. Ha avuto problemi il favorito e siamo sulla seconda curva con Minopoli che va a miti consigli e conviene quasi rimanere allargo e galleggiare. Quarantacinque e due, seicento, non ammette interferenze il gatto Silvestro con la sua getto Conchiglia. Castrum e allargo di Corindoro, poi il quattro di Castro e Leggei. Mezzomiglio in uno, uno e otto. Cavalli davanti alle tribune si è eliminato completamente il netto favorito Cosmos che è fuori corsa, così come l'undici di Carolina D. Si completa e si chiude il primo chilometro, nell'ordine del 17,2. E la Leben RL di Antonio Silvestri affronta da leader la penultima curva. L'andatura per questi puledri discreta, quindi non ci sono avventure né risalite a largo. 16, una tranquillità ora, queste due attrazioni impiegate. Solo Minopoli li segue come un'ombra la leader. Vale al paletto dei 600 finali. Gli altri sembrano appartenere a un'altra corsa. Si elimina Ione con il suo allievo. 15,4 di fronte. Minopoli sta sempre alla schiena dei Silvestri con la conchiglia e ora viene via. Si completa in miglio, due e quattro e un po' di spiccioli. E Castrum viene via sul serio, l'ideale Lewis, e impegna la conchiglia. Cavalli al completamento della curva finale, a fondo dell'ideale Lewis del francesino, che ci crede, ci prova, appariglia, passa con facilità, questo ennesimo ideale Lewis, mentre vengono via il quattro e il sette, cioè Castro e Cuba Spav, come quanto vuole, come è cresciuto, senza rotture questo allievo di Minopoli, conchiglia buona buona e secondo, poi terzo e Castro, e quarto e Cuba. Uno diciassette e sette, cresce e cresce molto. Quando non sbaglia è un cavallo che è veramente interessante, questo ennesimo ideale Lewis. Scuderia del team Minopoli, totalizzatore che è orientato su 6,59, out il netto favorito, pagava addirittura 1,16, Minopoli, classico freeway per il suo allievo, per vincere facile, 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 su una bancomat che si chiama conchiglia jet. Grazie. 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 Grazie.